Un attimo, siete emozionati? Voi siete emozionati? Ci siamo, facciamo un grande applauso a questo pubblico meraviglioso, le istituzioni che attraverso la mano del sindaco e del padrino Arturo Bracchetti tagliano il naso della settantesima edizione, la festa del peperone di Carvagnola. Stemmo il primo cuore Stemmo il primo cuore